Allora, Superrella, molte aziende stanno aiutendo, la sua continua ad andare avanti con forza, ma soprattutto apre ancora un altro settore importante. Sì, io vengo dalla scuola di mio padre e oggi ho coronato un sogno, perché vedere mio padre da piccolo che lavorava per questa terra quando acquistò questo terreno non c'era niente e mano a mano ho visto sempre i suoi sacrifici che mi hanno portato molto ad andare avanti pensando a tutti i sacrifici che aveva fatto mio padre. Quindi questa di oggi è una serata storica per voi, per la vostra azienda? Sì, è una serata storica perché metto anche io oggi una firma sulla mia proprietà, quindi sono molto contento perché nella vita ho seguito sempre le orme di mio padre e dopo che ha realizzato tutto questo non è facile per noi giovani, perché prima i tempi erano molto più facili, oggi è diverso, però ho coronato un sogno, ho messo anche io una firma con il mio secondo nome perché sono nato a Losanna e quindi ho messo anche io questa firma sulla nostra terra con Tierry House. Possiamo dire un'organizzazione svizzera da quello che si vede stasera? Infatti ci chiamano la piccola Svizzera qui in Campania, però le nostre origini sono di Napoli, di Santa Anastasia, amo molto la nostra zona. Il vostro prossimo obiettivo è continuare con questa linea, questo è solo l'inizio, poi dobbiamo continuare sempre con Tierry House.